Musica Hi people of youtube, welcome back to a new episode of Golden Sun, a parte di scherzi e benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio della nostra avventura, il tragico evento del Monte Aleph che si è risolto purtroppo nel peggiore dei casi. Ci sono dei cagnolini che giocano, non dovresti disturbarli. Eh già, la casa dove è successo l'incidente, la casa, la ex casa di Jenna, purtroppo. La porta non si apre, la violenza dei colpi che ha subito devono averla bloccata. Ma va? Questo posto è proprio come la tempesta, lo ridusse tre anni fa. Eh già. Fammi indovinare, tu sei il tizio che è venuto ad aiutarci ma adesso sei in colpa di non aver potuto fare niente? Vediamo. Gekko, fa attenzione, non camminai troppo vicino al fiume. No, non è lui, peccato. Il posto è talmente strano da girare che ogni volta io mi perdo e non so dove devo andare di concreto. Sono passati anche tanti anni dall'ultima volta che ci ho giocato, quindi perdonatemi se un po' mi perdo, però... Garrett, a volte mi fai davvero infuriare. La pietra con cui ti alleni mi ha distrutto i fiori. Ora ho perso la pazienza, vedrai cosa ti succede. Oh cacchio, meglio se me ne vado. Sei nei guai Garrett, tua sorella è furiosa. Ed eccoci qua, questo è il santuario. Qui la gente ci cura. Benvenuti però di guerrieri, quale rimedio cercate? Possiamo rianimare un nostro compagno, curarci dal veneno, toglie gli spiriti e toglie le maledizioni. Gli spiriti credo sia una roba che ti fanno direttamente alla persona. La maledizione invece te la dà solo un equipaggiamento. E per togliere il suddetto equipaggiamento devi per forza venire qua a farti togliere la maledizione. Ehi, vai via. Non penserai di salire di nascosto sul monte Aleph, vero? No? Beh, per una volta posso fare un'eccezione. Ma ti terrò d'occhio, Gekko. Che succede se ci torno? Cranet ti sta aspettando, dobbiamo andare subito a casa sua. Hai ragione. Non facciamoci vedere. Quale cacchio è casa di Cranet, maledizione? Ce ne sono troppe in sto villaggio. Devi passare di qui? Sì? Stai andando alla casa di Cranet, vero? Ok, il passaggio dove abbiamo incontrato i mos... Oh, pare che sappiano poco dei segreti del Tempio del Sol. È ancora lui. È ancora qua da tre anni. Credo che gli anziani di Vale non consentano l'ingresso neppure a Cranet. Cranet, può esserci utile? Ma, di certo sa molte cose. Può tornarci utile. Ma è più testardo di quanto credessimo. Ed è furbo. Molto furbo. Se non accetta possiamo sempre... Mi sembra che ci sia qualcuno. Ehi voi, che state facendo? Cosa facciamo noi? State ascoltando la nostra conversazione? Ovviamente no. Beh, penso che dovrò prenderti in parola. Ehi, siete voi che state complottando? Allora ci hai sentito? Esatto. Complottando. Come ti permetti di accusarmi? Allora è con voi che cradena appuntamento. Sì, dobbiamo incontrarla proprio ora. A questo appuntamento è tanto importante da farvi andare via? Sì. Non credo proprio che la vostra missione sia più importante della nostra. Passate pure. Ci lasciate andare? Sei sicuro, Saturos? Ad Exia, questi ragazzini hanno tutto il diritto di proseguire. Ok, andiamo, Gekko. Grazie. Ovviamente stanno complottando qualcosa della serie... Ma chi erano? Sanno già troppo sul Tempio del Sol. Cose che neppure gli anziani di Vale conoscono. Ai ai. E cosa dicevano a proposito degli elementi? Hmm. Maledizione. Gli elementi dell'alchimia, terra, acqua, fuoco e vento. Vogliono metterli in movimento. Hmm. E i quattro astri elementali sono la chiave. Neppure io, che sono un vecchio alchimista, sapevo queste cose. Ciao, Kraden. Allora, dammi un secondo. Voglio solo controllare i tuoi vasi. Per vedere se c'hai, sai, qualche oggetto. Abbiamo trovato un elisir. Vediamo. Sì, 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 dobbiamo andare da Kraden, bla bla bla. Volevo vedere cosa c'era da queste parti prima. Ed eccoci qua, Kraden. Oh, Gekko. Sembra che ci sia qualcosa che ti preoccupa. Io? Beh. Sono quei due, vero? Si chiamano Saturus e Dexia, se non sbaglio. Sono ancora lì, che testardi. Volevano qualcosa da te, Kraden. Pare proprio che sia così. Come pare. Il Monte Aleph e il Tempio del Sol parlavano come se li avessero visti con i loro occhi. Non è strano? Alquanto. Sì, non si può accedere al Monte Aleph senza un motivo davvero importante. E si sono entrati di nascosto, potrebbero essere ladri. Dobbiamo raccontarlo a Ghanzeria e a tutti gli altri del villaggio. No, no, no. Ehi, aspettate. Non sappiamo ancora quanto ci sia di vero in quello che hanno raccontato. Non possiamo fare nulla se prima non confermiamo ciò che hanno detto. Allora, che dobbiamo fare? Cerchiamo conferma. Intendi dire che dovremmo entrare noi stessi nel Tempio del Sol. Ma non è impossibile. E perché? Beh, io ho già sgattalonato dentro senza farmi vedere. Solo perché salire sul Monte Aleph è proibito? No. Bene, andremo soltanto a vedere se sono stati al Monte Aleph. Se non ci vedrà nessuno, non ci accadrà nulla. Sei d'accordo? Sì. Esatto. Non faremo nulla di male lassù. Questo sarà il nostro segreto, ok? Va bene. Bene, allora ho deciso. Ci guiderai tu, Gekko? La strada tra il Monte Aleph e il Tempio del Sol presenta alcuni punti difficili. Ma tu ci guiderai, vero Gekko? Tu sei più scrupoloso di Garrett, Gekko. Quindi non correremo rischi. E questo che cavolo di? Non essere così testardo. Su. Ecco, prendete. Che cos'è? Cos'ha preso? È la scelta migliore. Va bene, andiamo. Allora, aspetta. Voglio vedere, giustamente, se c'è. Le cose tonde in questo gioco, Dio mio. Quanto è difficile interagirci ogni volta. Mamma mia. Oh, cinque monete. Ma stai rubando in casa mia? No? Quei due sono ancora lì? Sembrerebbe di no. Perfetto. E allora, verso il Monte Aleph sia. Oggi il Monte Aleph si vede benissimo. Ha un aspetto così sereno. Eh, buon per lei, signora. Se lo goda, se lo goda. Mannaggia. Che la vecchiaia è una brutta bestia, eh. Allora, il tizio è ancora qui. Facciamo finta di nulla. Ok, aspetta ancora un attimo. Ecco fatto. Uh, che protezione. Mamma mia. C'era un prete. Ingresso del Sol. Eccoci arrivati. Al Tempio. Ah, che bello. Oh, incredibile. E' l'ingresso del Tempio di Sol. E' la prima volta che venite qui, vero? Sì. E' un importante monumento della nostra storia. Osservatelo attentamente. Va bene. Lo deprederemo come fossimo dei caglini bastardi. Detto questo... Ok, questa è la strada sbagliata. Non mi ricordo se ci sono... Incontri randomici in questa zona. Penso proprio di sì, quindi ci prepareremo ai vari scontri. Purtroppo io non ho mai grindato punti esperienza. O meglio, da bambino qualche zona l'avevo trovata per fare punti. C'era una zona ben precisa dove farli, ma niente di eccezionale, diciamo. Sette, quattordici... Tu, Garrett. Dieci. Undici. Un po' pochino, eh, di danni. C'è una zona precisa con un nemico che dà un po' più di punti esperienza. Solo che credo che arrivati a un certo punto... Non sia così utile stare lì con lui. Con quel nemico, appunto. Qua c'è... Sapete che moltissime persone, tra i vari personaggi che si speculava al tempo, potessero entrare in Smash Bros. Molti puntavano a Isaac di Golden Sun. Sarebbe stata un'ottima aggiunta, non lo voglio negare. Pensavano a lui, pensavano a Raiman. Non ce ne erano di scelte e secondo me è stato un peccato non puntare a... Non c'è nulla. Non puntare, appunto, a certi personaggi dimenticati. Perché, per carità, è vero, magari per una nicchia un po' ristretta Golden Sun, sì. Però ha comunque ancora un seguito, a parer mio. Un seguito non dato solo da me, ma da tanti fan. Molte persone sarebbero state molto felici di vederlo, secondo me. Quindi, il fatto di sprecare comunque un'opportunità di mettere personaggi comunque non dimenticati, ma che comunque hanno... Diciamo, la loro fanbase ancora speranzosa. Sarebbe stato carino. Sarebbe stato molto carino. Ah, cavolo. Il parassita ha quasi ucciso Genna. Spero che qualcuno abbia una magia di cura. Abbiamo ottenuto un'erba. Questo? È la rappresentazione di un Minotauro. L'occhio destro è brillante, ma al posto del sinistro c'è un buco. Vuol dire che dovrò trovare... Qualcos'altro da infilargli là dentro. Vediamo. Eccolo qua. Controlla la cassa. Hai trovato un gioiello. Mmm, ma che bello. E io che pensavo che quella centrale fosse la strada giusta. Maledizione. Faccio sempre scelte sbagliate nella vita. Allora, pipisterelli. Ecco qua. Ti prego non ti difendere perché... Esatto. Oh no. Vorrei ucciderti. Ho bisogno di... Di usare un po' di erba. Non nel senso cattivo, per favore. Non... Non pensate male, eh. Ecco qua. Bravissima Jenna. Ah, speravo in un critico da parte del protagonista. E via. Sai cos'è? Purtroppo l'unica cosa brutta di questo emulatore. O meglio, di questo emulatore. Di questo... Diciamo... Lettore di scheda punto GBA. È che non c'è modo di velocizzare il gioco come se fossi appunto su un emulatore GBA come l'MGBA. Non c'è modo di velocizzare. Tipo in queste sezioni. Magari che vai avanti e indietro da un nemico all'altro. Sarebbe comodo. Però vabbè. Ti fa apprezzare come nel gioco originale che... Questa era la velocità e così dovevi andare. Punto. Fine. Molti pensano che giocare con l'emulatore sia un po'... Cittare. Diciamo. Perché magari appunto puoi velocizzare. Puoi fare le cose. Puoi dire. Puoi semplificarti gli scambi. Sì. Ma è... Una semplificazione... Diciamo... Dovuta... Dal tempo. Nel senso... L'emulatore ti permette sì di fare... Tante cose che... Magari tu da solo quando eri bambino... Come me. Lo scudiero livello 2. Apprendi tremito di scudiero. Max HP. Saliti di 8. PP di 3. Attacco 4. Difesa 2. Agilità 4. Monete 4. Per esempio c'era stato un gioco che... Al tempo da bambino io... Avevo solo... Appunto una cartuccia. E quindi ho dovuto aspettare anni di comprarmi un secondo Game Boy... Per poter fare determinate cose. Ma... Con emulatore queste cose... Una volta che magari finisci un gioco e devi fare... Per esempio in Goldstein il passaggio di salvataggi da questo al 2... Puoi farlo tranquillamente. Ovviamente noi non stiamo giocando su emulatore. Quindi questa opzione c'è negata. Ma appunto ho due Game Boy Advance quindi posso farlo. Che succede Kraden? Quei due dicevano che c'è un passaggio segreto che porta al Tempio. Sono stato spesso quassù e mi è sempre parso piuttosto strano. Ho sempre pensato che il Tempio di Sol dovesse apparire diverso. Che intendi dire? Il Tempio di Sol è dedicato al sole. Ci dovrebbe essere qualcosa che vi faccia riferimento. Mi è sempre parso strano che non ci fosse. Bah, c'era la mia immaginazione. Ma se c'è un passaggio segreto è possibile che porti proprio a... Beh, vediamo cosa riusciamo a trovare. Mi sembra serio. Lo aiutiamo, certo. Siamo qui per quello. Ma non separiamoci. Sarebbe pericoloso. È meglio rimanere uniti. Va bene. Uniamoci di nuovo. Chissà come sarebbe stato un ipotetico attacco appunto di... Oh, ma guarda. Un passaggio. Di Isaac in Super Smash. Chissà come sarebbe stato. Vediamo. Altre statue da muovere non ce ne sono, vero? No. Va bene. Andiamo prima a sinistra. E c'è una statua. Ok. Non ci porta nulla. Però ci sono delle melme. Oh. Sono fuggite. Che strano. Beh, meglio. Ora andiamo a destra. E ci sono delle scale. Ma pensa un po' che culo. Oh, ma guarda. C'erano delle scale. Chissà come ho fatto a non pensarci fino ad adesso. Ok, qua iniziamo a diventare un po' troppi. Tremito. Ne colpisco tre. Ok, va bene. Iniziamo ad usarli perché se no... Vampa e Vampa. Ecco qua. Perfetto. Due sono andati... Oh, tre sono andati. Ah, perché Vampa colpisce più ampio? Vampa colpisce di più? Non ci avevo fatto caso. Garrett sale di livello. Perfetto. Fammi vedere, aspetta. Una cosa che non ricordavo. Allora, abbiamo 16. Proviamo. 17. Ok. Ci deve essere tipo tot passi che ti fanno ricaricare appunto tot quantitativo di pipì. Scappa. Non ne è fatto in tempo. Mi dispiace. Jenna, tra l'altro, non è ancora salita di livello. Sbaglio. Mi sa di no. Di qua abbiamo fatto il giro. Perfetto. Proseguiamo. Questi dungeon così lineari, mamma mia. Vediamo. Scapperanno? No. Ci ha attaccato. Brava. Ti sei meritata una morte lenta. Perfetto. Eccola qua. Salita di livello. Purtroppo, Jenna serve relativamente a poco che salga di livello. E ve lo spiegherò probabilmente dopo questo episodio. Tanto in realtà non penso che serva che ve lo spieghi. Chi conosce il gioco già saprà. Ma ecco, volevo capire, scusami. Vampa e vampa. No, non ha colpito il pipistrello. Eppure prima l'ha colpiti. Hmm. Che strano. Vabbè, meglio per noi. Andata. Ok, un altro gioiello che dovremmo infilare dentro l'occhio di qualche minotauro. Proseguiamo da questo lato e vediamo se c'è un altro gioiello. Può essere, vediamo. Bene. Quando incontriamo nemici di questo genere non mi spreco neanche a usare le magie. Quando invece magari sono un po' tanti ci mettiamo. Lo usiamo. Sì, consumiamo magari i punti magia. Ma come ha detto il gioco stesso. Li ricarichi camminando quindi. Tanto vale sfruttarli, no? A differenza magari di altri giochi che... Hmm. I punti magia... Se non usi un oggetto o cose simili non li ricarichi. Per lo meno qua hai la possibilità... Di ricaricarti muovendoti. Altre statue. Hmm. Sembra impossibile raggiungerle da qui. Forse occorre la psicoenergia. Jacob, prova a usare la tua. Abbiamo la psicoenergia per spostare? Sì. Perfetto. Ecco qua. Allora. Fammi solo vedere. Come facevo? Esatto. Devo schiacciare... Questo. No, ho sbagliato. Come facevo a... A impostarlo? Ecco fatto. Vediamo anche le altre giusto per... Vedere... Cosa nascondono. Allora. Il gioiello l'abbiamo trovato. Lì ci sono le scale. Le altre statue purtroppo servono a niente. Gecko rimette la piccola gemma nella fessura. Qualcosa si è mosso. Si sente un rumore di una pietra che si muove. Hmm. Chissà dove sarà. Vediamo se si è aperto. Esatto. Un passaggio. Hmm. Dovrei però effettivamente curarmi. Che poi effettivamente io uso gli strumenti ma... Abbiamo rimedio. Ci costa tre. Tanto appunto i pipì si ricaricano. Meglio usarli, no? Ecco via. Il fantasma. Aia. Che male. Speravo di ucciderlo un attimo prima. Vabbè, non importa. Io intanto continuo... Allora, aspetta. Continuo a correre che... Così almeno... I pipì li ricarichiamo al momento. Ecco qua. Ah. Io che ci ho sperato. Ma è meglio se usiamo solo genna per attaccare magico al momento. È quello che fa più danno di magia, ovviamente. Vediamo. Un'erba. Chissà da quanto tempo è dentro quel forziere, poi. Io intanto i fantasmini ce li leviamo già dalle scatole. Ovviamente non facciamo abbastanza danno per poterli uccidere con due colpi. Ah. Va bene. Ah, ma guarda. Il sole. Incredibile. Ecco. Ecco qui. Trovato. Questo è senz'altro il simbolo del sole. Il cuore del tempio di Sol. Proprio come pensavo. Ciò significa che quei due dicevano la verità. Eh, già. Ma se ciò di che dicevano è vero, ciò significa che dovevano essere... Erano dei ladri. Sono venuti al tempio per rubare. Torniamo al villaggio e raccontiamolo a tutti. No, 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 no. Che dite? Che cazzo fate? Kroden, che ti succede? No, no, niente. Siamo così vicini. Vicini? Vicini a cosa? Siamo arrivati fino al cuore del tempio del Sol. Tornare indietro adesso sarebbe... Credi che sarebbe un errore? Eh, sì. Il tempio di Sol custodisce le origini dell'alchimia. Sarebbe un peccato se... Che facciamo? Andiamo ancora un po' avanti? Va bene, sì. Grazie. Grazie. Beh, se la metti così non abbiamo scelta. Io resto con Kroden. Voglio andare a vedere cosa c'è più avanti. Giustamente gli anziani puntano alla sensibilità dei più giovani. Ah, sì. Andremo solo un pochino più avanti. Bene, è deciso. Andiamo. Queste statue sono interagibili? No. Scusatemi. Però questa è la luna. Ma che cos'è questa stanza? Al centro c'è il disegno della luna. È il simbolo di luna. Che a sua volta simboleggia la notte. Credo che queste stanze siano in qualche modo collegate. Non è vero? Certo. Sol e luna. Queste stanze custodiscono un segreto. Ma quale? Che significa tutto ciò? Gekko, vuoi vedere cosa c'è dell'altra parte? Certo. Fammi sapere se trovi qualcosa. Io intanto do un'occhiata qui. La posizione delle statue? No, eh. Vediamo. Sì, direi proprio la posizione delle statue io. Ehi, ma che succede? Gekko deve aver trovato qualcosa di interessante. Oh, addirittura. Gekko, fermati. Potresti fare un terribile errore. Aspetta, Gekko. Che c'è, Karaden? Oh, cabolo. Hai scoperto un meccanismo formidabile, Gekko. Deve essere una specie di trappola. Una trappola? Vai a guardare nella stanza di luna e capirai. Mmm, la stanza della luna. Magnifico. Questa scoperta significa che stiamo cercando nel luogo giusto. Ma se muovi una statua, finiamo nella trappola del tempio. Ma perché qualcuno dovrebbe mettere una trappola? Per nascondere qualcosa, è ovvio. Non ne ho idea, ma ci deve essere qualcosa di molto importante qui dentro. Forse hanno nascosto la chiave dell'alchimia. La pietra filosofale? Volete che vi dica altro? Certo. Sinceramente dubito che capirete se ve lo spiegassi. Dobbiamo trovare una soluzione per questo mistero. Ma ci hai detto degli stupidi. Un altro mistero. Io continuo con la stanza di luna. Continuate ad esplorare. Qualcosa mi dice che la luce deve essere la soluzione di questo mistero. Vedremo se ho ragione. Sono vecchio. Gekko, vediamo se riusciamo a capirlo da noi. Va bene. Allora, quindi quelle della luna non si spostano, vero? Ok. Almeno queste del sole si possono fare. Via. con la soluzione dell'enigma. Si è fatto un buco. Incredibile. Allora. Tu vieni con... No. Tu vieni con me. Si sente un click. Va bene. Proviamo a spostare le statue adesso. Non mi ricordo, effettivamente. È passato molto tempo. Ma che succede? pare che Gekko abbia trovato qualcosa. Sì, e a questo giro non sta esplodendo nulla, Kraden. Ci sei, Gekko? Kraden. Bene. Ottimo lavoro, Gekko. Da dove proviene quel buco? Non lo sappiamo. Si è fatto con la luce. Quando Gekko ha spostato le due statue, sono partite due fasci di luce. Dopodiché ha apparso quel buco nel pavimento. Poi Gekko vi ha fatto cadere la statua. Ehi, ottimo lavoro, davvero. E così le statue stesse erano la trappola. E l'altra statua poteva disattivare la trappola. E ora che l'abbiamo disattivata, non dovremmo più avere problemi. Chissà come hanno fatto quei farabutti a non arrivarci da soli. Io sono nella stanza di luna, voi penserete al resto. Va bene. Va bene. Facciamo noi il lavoro pesante, insomma. Spostiamo ste statue del culo. Allora. Altro pezzo fatto. Ecco qui. Ed infine, manco per spostarsi dall'altra parte. Oh, non ci arrivo. Peccato. Stavo dicendo, neanche per spostarsi dall'altra parte. Usiamo la psicoenergia. Ed ecco qui. Ora, la luna si è trasformata in sole. Kraden, è successo qualcosa qui? Guarda, Gekko. L'immagine di luna, ora è del sole. Ma pare che non sia successo nient'altro. È strano. Hanno costruito una trale trappola. E questo è l'unico risultato. Non lo so. Deve esserci stato qualche altro cambiamento. Dobbiamo scoprire dove. Va bene. Andiamo a cercare. Oh. C'è stato un altro cambiamento. Che è successo nell'altra stanza? Guarda, il simbolo del pavimento è cambiato da sola a luna. Sicuramente ci deve essere qualcosa in questa stanza. Si è aperto un portale. Ecco, ci siamo. Andiamo, Gekko. Aspetta, Gekko. Sto arrivando. Pi, 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 pi. Ed eccoci qui. Il Tempio del Sol. Dove cavolo siamo finiti? Abbo, tu hai visto qualcosa? Ma dove siamo? Gesù, guardalo. Dio è sceso in terra. Wow. È incredibile. È l'oceano. No, non può essere. Non ci sono onde. Quindi, l'oceano. Cos'è l'oceano? Quindi, dove siamo? L'oceano è un'enorme distesa d'acqua che si trova alla fine del mondo. Ah, è troppo difficile da spiegare, ma un giorno ve lo mostrerò. Vorrei capire dove cavolo siamo. Gli astri elementali. Ma allora esistono. Gli astri elementali esistono. Elementali. Tu ci hai insegnato che gli elementi sono la base di costruire la materia. Le pietre degli alberi, noi stessi, siamo tutti fatti degli stessi quattro elementi. È così, Gekko? Come pensavo. Come dico spesso, gli elementi sono l'origine di tutta la materia. Terra, acqua, fuoco, vento, sono questi i quattro elementi. Secondo la leggenda, i quattro astri elementali sono l'essenza, purificata di ciascun elemento. E adesso queste pietre leggendarie sono qui davanti a noi. Davvero? Sono quelle cose lì? L'astro di Venere, la pietra dell'elemento terra. L'astro di Mercurio, che possiede la forza dell'acqua nelle sue varie forme. Ghiaccio, acqua, gas. L'astro di Marte, rosso come il fuoco che ha il suo interno. E infine, l'astro di Juniper. Esatto, Giove, ricolmo della furia del vento. Craden, perché sei così estesiato? No, no, questa non è un'erezione, no. Come si può rimanere calmi di fronte a una tale meraviglia? Siete di fronte alla fonte di tutta l'alchimia? Non ve l'ho già detto? Sì. Detto cosa, forse dormio perché non ho proprio idea di cosa sta dicendo. La pietra di sapienza. La pietra dei saggi. Quella pietra domina ogni cosa. Può tramutare la cruda materia in oro. Può persino sfidare la morte. Ora inizia a capire, vero? Sì, la pietra filosofale. Lo studio dell'alchimia nacque dalla ricerca di questa pietra. Non so se ho capito bene, ma devono essere potentissimi, vero? Estremamente potenti. Con una sola pietra si può conquistare il mondo. Ora iniziate ad avere l'idea più precisa. Ehi, Kraden, ci stai terrorizzando? Dici sul serio? Addirittura conquistare il mondo? Nessuno può escluderlo. Credo che dovremmo lasciarle lì, allora. Per questo ho cercato gli astri elementali. Voglio sapere la verità su queste pietre. Oh, cacchio, sono vecchio. E ora sono davanti a me. Per favore, andate a prenderle per me. Fa' attenzione, Kraden, sembra scivoloso. Ma devo esaminare gli astri elementali. Li prenderanno i ragazzi. Eh, vabbè, andiamo, tanto. Non posso chiedervi tanto. Davvero, lo fareste? Gekko sarà felice di prenderli per te, vero? Grazie. Prendi queste, Gekko. Che cosa ci ha dato? Le hai portate per casa tua, vero, Kraden? Esatto. Cosa sono queste borse? Il loro tessuto è fatto di fili di Mithril. Mithril? Le ho preparate proprio per questa occasione. Ora vai a prendere gli astri elementali e mettili nelle borse. Va bene. Andiamo. Hai ottenuto le quattro borse di Mithril. Noi però ci fermiamo qui. Gli astri elementali dovranno attendere un attimo. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.